Nuova tragedia sulle strade della Valtellina e anche questa volta la comunità piange purtroppo una giovane vita spezzata, un ragazzino di soli 17 anni, Andrea Zen, residente a Madonna dei Monti, frazione di Val Furva. Il minorenne poco dopo mezzanotte e mezza stava rincasando con la sua moto KTM Cross 125 con un gruppetto di amici anche loro in sella, due ruote, quando per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Tirano in via Paris, nel cuore della località, ad una manciata di metri da casa, avrebbe perso il controllo del veicolo sbalzando dalla sella, mentre la moto ha proseguito la marcia per alcuni metri e ripiombando pesantemente sull'asfalto. Un impatto violento, quello con il suolo, che nemmeno il casco indossato regolarmente è riuscito ad attutire, immediata la richiesta di aiuto al 112. Sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha tentato in tutti i modi di strappare con una lunga manovra di rianimazione il 17enne alla morte, ma purtroppo le sue condizioni sono inesorabilmente precipitate, rendendo vano qualsiasi tentativo messo in atto dai medici di salvargli la vita e il cuore di Andrea, messo a dura prova dalle terribili lesioni riportate nell'incidente, ha cessato di battere. La salma del giovane, dopo l'autorizzazione del sostituto procuratore Stefano Latorre, è stata ricomposta presso la camera mortuaria dell'ospedale di Sondalo e dopo la visita esterna verrà riconsegnata ai familiari per le esequie. Il magistrato non ha disposto autopsia e mentre un'altra famiglia piange la straziante perdita di un figlio, la cronaca di questa terribile estate di sangue riporta in primo piano numeri tragici per le vite spezzate sulla strada. Sei le persone che dalla fine di giugno ad oggi, solo nei comprensori del tiranese dell'Alta Valle, hanno perso la vita a causa di incidenti stradali. Tre avevano meno di 18 anni. Oltre ad Andrea Zen, il 27 giugno era morto Walter Mazzucchi, 16 anni di Livigno, scontrattosi con un'auto in località Tre Palle, mentre in sella la sua moto procedeva lungo la statale 301 del Fuscagno e Asia Cometti. Anche lei di soli 16 anni, residente a Tirano, strappata alla vita il 16 luglio nello schianto nella galleria di Bolladora Sondalo, tra l'auto sulla quale viaggiava e un tir.